Le marche rischiano di finire in fascia arancione, l'annuncio del governatore Francesco Acquaroli che lamenta e i repentini cambi di valutazione creano disorientamento. A Urbino sarà attivo da domani un numero di telefono dedicato ai positivi al Covid in isolamento domiciliare. Droga in auto e negli slip, arrestati dai carabinieri un giovane albanese e un 51enne italiano di Coglie al Metà. Non decolla l'iniziativa Io Apro lanciata dall'imprenditore Umberto Carriere, il sindaco di Monbaroccio firma una diffida, Confcommercio si scaglia contro la protesta mentre Ristori Italia scrive al prefetto e a due ministri. La residenza protetta che consente le strette di mano, ecco la casetta realizzata nella struttura del Beato Santi a Monbaroccio. Ripulito a Fano il sottopasso di San Cristoforo, chiuso da anni, era diventato una discarica a cielo aperto. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito dai nostri titoli. La nostra regione rischia di finire in zona arancione. L'ho annunciato con un posto sul profilo Facebook il governatore Francesco Acquaroli. Ho appreso dalla conferenza Stato-Regioni, ha scritto il Presidente, che il criterio di valutazione per l'assegnazione del colore non è più solo quello dell'indice RT, ma soprattutto quello della valutazione del rischio, e cioè in base allo stato di occupazione delle terapie intensive, delle strutture ospedaliere, alla stima dei focolai e altri fattori. Dunque, se le marche domani avranno l'indice sotto a 1, rischiano seriamente di finire in fascia arancione. Sono preoccupato per evolversi dalla pandemia, prosegue Acquaroli, e non voglio essere superficiale, per questo chiedo da settimana un confronto che non si basi solo sulla lettura dei numeri che dicono tanto, ma non raccontano tutto. Oltre a questa preoccupazione c'è la consapevolezza dell'esasperazione e della difficoltà di tenuta del sistema socio-economico. Spero che il governo, ha concluso Acquaroli, tenga conto di quanto richiesto. Ora restiamo in attesa delle decisioni definitive. E si aggrava di 10 vittime il bilancio marchigiano dei deceduti con Covid-19. Sono 6 le persone della provincia di Pesero Urbino che hanno perso la vita, tra cui una fanese di 91 anni. Intanto torna a superare quota 500 il numero di positivi al coronavirus. Nelle ultime 24 ore ne sono stati riscontrati 506 tra le nuove diagnosi, di cui 151 nella provincia pesarese. Negli ospedali ci sono 8 ricoveri in meno, in lieve aumento i pazienti in terapia intensiva, ma in calo i degenti in semi-intensiva. E come aveva annunciato lunedì sera nel nostro telegiornale e l'assessore alla sanità di Urbino Elisabetta Foschi, l'amministrazione comunale ha istituito un numero telefonico dedicato alle persone positive al Covid. Allora sentiamo di che cosa si tratta i particolari nel servizio di Filippo Pucci. Sarà attivo a partire da domani, giovedì 15 gennaio, il numero di telefono per ricevere segnalazioni o richieste in tema sanitario da parte di persone affette da Covid-19 che si trovano in isolamento domiciliare. L'iniziativa, ufficializzata dal Comune di Urbino, ha l'obiettivo di evitare che ci siano persone malate in difficoltà che non abbiano ancora ricevuto indicazioni sulla terapia da seguire o su una visita medica pur vedendo peggiorare la propria situazione clinica. Il numero 338 40 56 602 rimarrà attivo a partire dal pomeriggio di domani, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. In una nota, l'amministrazione precisa che la presa in carico col paziente a domicilio rimane un compito del medico di medicina generale o del medico di continuità assistenziale che segue la terapia e assicura le visite predisponendo, se necessario, l'attivazione delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale. Questo numero, invece, ha lo scopo di agevolare la comunicazione di eventuali problemi ai referenti del distretto sanitario, escludendo la possibilità di fornire terapie o effettuare visite in sostituzione dei medici preposti. Infatti, il Comune ha attivato una collaborazione con l'associazione Il Vascello che offre servizi gratuiti di informazione sanitaria per cui sarà il dottor Piero Benedetti, noto medico ora in pensione, a rispondere alle chiamate e farsi carico di dare le risposte e le indicazioni necessarie alle persone che lo richiederanno. Sappiamo bene, spiegano il sindaco Gambini e l'assessore Foschi, di quanto sia importante intervenire in tempo per impedire l'aggravarsi della malattia e il ricorso agli ospedali, che stanno attraversando una situazione molto delicata e per questo abbiamo voluto dare un supporto ai cittadini e all'attività del distretto sanitario. I carabinieri di Colli al Metauro hanno arrestato per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un albanese di 29 anni, un 51enne italiano, entrambi del posto, sorpresi con la cocaina. Ai militari non è sfuggito uno strano di rivieni tra le abitazioni di una Fiat 500 nera. I due sono stati fermati in via Flaminia a Lucrezia di Cartoceto e sono stati controllati. Il 29enne era nervoso e il suo atteggiamento non è passato inosservato, tanto da spingere i carabinieri ad approfondire il controllo. Una volta in caserma, occultati negli slip del giovane, sono state rinvenute quattro dosi di cocaina già pronte per lo spaccio, mentre all'interno della Fiat, tra i sedili, è stato rinvenuto un involucro contenente 30 grammi di droga ancora da dividere. Nelle abitazioni invece è stato trovato il materiale per il confezionamento delle dosi. Per loro si sono aperte le porte del carcere di Villa Fastigi e questa mattina gli arresti sono stati convalidati. Per entrambi il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. Cambiamo argomento, sembra non decollare l'iniziativa Io Apro lanciata dall'imprenditore Umberto Carriera nella provincia di Pesero Urbino. In tanti hanno deciso di non aderire. Il servizio di Angelica Panzieri. Domani prenderà al via in tutta Italia la manifestazione di protesta Io Apro. Al momento a Pesero la soluzione proposta e lanciata dall'imprenditore Umberto Carriera non sembra decollare. Infatti molti ristoratori hanno deciso di non aprire. Umberto Carriera, promotore dell'iniziativa Io Apro, che vedrà aprire domani sera in tutta Italia i ristoranti anche per cena, non ha ancora fornito la lista degli aderenti all'iniziativa. Gli organizzatori parlano di 50.000 adesioni in tutta Italia, ma a Pesero ci sono già decine di ristoranti appartenenti al gruppo Reca che non hanno alcuna intenzione di aprire. Anche chi condivide la stessa filosofia di pensiero di Carriera alla fine terrà chiuso. Io sono completamente schierato con le idee di Umberto Carriera. Condivido tutto quello che ha detto. Ci sono alcune cose che non condivido, dei modi, ma in linea di massima sono d'accordo con lui. Lo accusano di aver sbagliato, ma per sbagliare bisogna che fai. Certo, chi non fa niente non sbaglia. Chi fa, sbaglia. Io personalmente, per motivi miei personali, ancora non sono sicuro cosa fare. Deciderò tra stasera e domani. L'iniziativa, che inizialmente sembrava aver preso piede attraverso un tantan mediatico, a Pesero non sembra decollare. Qualche ristoratore non condivide le modalità della protesta, che a tutti gli effetti va contro le regole imposte dal Governo. Noi nei nostri gruppi, come gruppo OREC, abbiamo deciso di non partecipare, assieme ai ristoratori, perché noi vogliamo aprire. Noi vogliamo aprire anche domani, perché abbiamo esigenza veramente di lavorare, che siamo una delle categorie più colpite. Non aderiamo a questa manifestazione solamente per il fatto che vogliamo aprire senza incorrere in multe, in sanzioni, in provvedimenti penali, perché risulteremo veramente cornuti e mazziati due volte. Vogliamo aprire perché è il nostro diritto al lavoro, lavorare. Abbiamo bisogno di lavorare perché questi ristoratori non ci stanno aiutando per niente. Siamo veramente, come si dice, alla canna del gas. Noi abbiamo bisogno di aprire nella legalità senza dover soffrire, senza dover avere paura di multe, di sanzioni che veramente possono creare altri problemi oltre a quelli che abbiamo. I circoli non sono più quelli degli anni 80 e 90. Adesso la maggior parte dei circoli, più del 90%, hanno proprio all'interno delle aziende, perché hanno fatto la scelta di mettersi in regola come bar e quindi sono doppiamente colpiti perché hanno dei ristori minimi, come tutte le attività, pagano le tasse come un bar normale, però almeno come gli altri bar, effettuare il lavoro da bar, perché così non riusciamo veramente più a stare in piedi. Siamo veramente allo stremo delle forze. E il sindaco di Monbaroccio, che vedete alle mie spalle, Emanuele Petrucci, ha inviato una diffida a Umberto Carriera, proprietario del ristorante La Grande Bellezza, con sede nello stesso comune. L'eventuale svolgimento della cena nei locali del ristorante, ha scritto il primo cittadino, oltre a costituire una palese violazione delle norme vigenti, rappresenta un pericolo evidente e altamente rischioso per la salute pubblica dell'intera comunità in questa fase di emergenza epidemiologica da Covid-19. E la Confcommercio di Pesor Urbino, Marche Nord, si schiera contro l'iniziativa IoApro, definita populista, illegale e inconcludente. Forse, si legge in una nota, per gli interessi personali, pubblicitari e politici di qualcuno, queste proteste per l'associazione di categoria danneggiano l'immagine della ristorazione e rischiano di creare danni incalcolabili alle imprese e ai clienti dei ristoranti. Il Ristor Italia, invece, ha scritto una lettera al prefetto La Polla e ai ministri Gualtieri e Patuanelli per chiedere aiuto e condividere il grido di disperazione della categoria. Le azioni del governo si sono mostrate tardive e insufficienti, si legge nella lettera, come ad esempio l'accesso al credito che di fatto ha aggravato l'indebitamento di società che non potendo svolgere la propria attività, per le ragioni ormai note, potrebbero essere impossibilitate a restituire le somme ottenute. Una situazione che rischia di diventare irreversibile, di sfociare infallimenti a catena. Dopo aver ricordato le misure messe in campo per rispettare i protocolli anticontagio, l'associazione ha chiesto il decadimento delle norme che limitano le attività del comparto ORECA, ma anche la proclamazione dello stato di emergenza economica con immediati risarcimenti per i danni causati. Infine Ristori Italia chiede al prefetto e ai ministri di intercedere con il Presidente della Repubblica affinché venga ripristinato al più presto il rispetto dei principi fondamentali della Carta Costituzionale. Si chiama Casetta, diamoci una mano. Ed è la struttura che grazie ad un volontario, ma anche al sostegno del Comune, è stata installata nella residenza protetta Beato Sante di Monbaroccio per permettere agli anziani di stringere la mano dei propri cari. Il servizio di Letizia Marchionni. Il Covid allarga le distanze anche tra gli affetti più stretti, soprattutto se questi sono persone fragili e da rischio come gli anziani. Per ovviare al problema però, nella residenza protetta Beato Sante di Monbaroccio è stata costruita una stanza degli abbracci, rinominata Casetta, diamoci una mano. Una struttura in legno dotata di braccia, grazie alle quali i parenti e gli anziani ospiti potranno di nuovo dopo quasi un anno scambiarsi una carezza ed una stretta di mano, seppur attraverso un guanto in plastica. La casetta, che doveva essere attivata per Natale, al momento non è ancora in uso. In quanto ha spiegato lì a ferro, coordinatrice della struttura, abbiamo ricevuto una raccomandazione di ASUR di contingentare al massimo gli ingressi dei familiari, causa l'aumento dei casi in provincia, ma speriamo di poterla utilizzare il prima possibile. Un giorno, parlando con la mia collega che è al di là del vetro, abbiamo deciso di creare qualcosa che fosse non troppo blando, perché ci sono varie tipologie in distanza degli abbracci, volevamo qualcosa che fosse sicuro al 100%, quindi con una sua struttura proprio blindata, supportati dall'amministrazione e soprattutto poi chi materialmente realizza le nostre idee, perché noi ne abbiamo tantissime e con tutte le evoluzioni abbiamo creato un prototipo, che è quello che voi adesso vedete, andremo su prenotazione, faremo un primo triage telefonico, proprio per se non avete avuto febbre, non avete avuto quelli che sono i classici sintomi, il familiare prenoterà la visita, verrà qui e come dicevo prima, nel momento in cui viene faremo il triage, quello fisico, la temperatura, la registrazione, si laverà le mani, indosserà i guanti, indosserà il camice e potrà stare con il proprio familiare. La visita durerà 15 minuti e terminerà allo scattare del rosso del semaforo posizionato sulla scrivania, il parente successivo lo dovrà attendere circa mezz'ora per permettere alle operatrici di effettuare la sanificazione, che avverrà con prodotti specifici e con raggi ultravioletti, regalare il calore di un abbraccio a chi non ne può ricevere a causa dell'emergenza sanitaria. Era questo l'obiettivo del progetto, ha poi spiegato Felice Lobascio, il volontario che ha realizzato gratuitamente e donato la struttura. Mi è impressionato subito, è stata secondo me una cosa meravigliosa e la cosa bella è stata anche durante il corso d'opera della struttura, a vedere anche gli anziani che ogni tanto magari si affacciavano dalla porta e già li vedevi sorridenti sotto quel punto di vista, perché cominciavano a capire che stava nascendo qualcosa per loro e poi gli avrebbe dato l'opportunità di un minimo di contatto con i loro parenti. Contenta del bel gesto anche l'amministrazione comunale di Monbaroccio. La sensibilità che ha dimostrato KCS ci ha subito convinto ad accogliere immediatamente la proposta che hanno fatto appunto di realizzare questa cosa, che può sembrare una piccola cosa ma in realtà ha un valore molto grande. Poter dare la possibilità a chi le relazioni sociali le ha veramente quasi tagliate al 100% di potersi relazionare di nuovo con i propri familiari, anche scambiarci uno sguardo proprio da vicino così, insomma crediamo che sia veramente di fondamentale importanza. E dopo le tante segnalazioni arrivate anche in questi anni a Fano TV è stato ripulito il sottopasso di San Cristoforo a Fano, diventato un luogo di bivacco ma anche una discarica a cielo aperto. È stato realizzato con l'obiettivo di mettere in sicurezza ciclisti e pedoni in un punto ad alto traffico veicolare, ma in realtà non è mai stato utilizzato. Il sottopasso di via Sandro Pertini all'altezza della chiesa di San Cristoforo è chiuso da tanti anni, ma è rimasto un appoggio e un nascondiglio per clochard e tossicodipendenti. Le erbacce hanno preso sopravvento, le strutture si sono rovinate e il passare del tempo ha fatto il resto. Anche Fano TV se ne è occupata molte volte, raccogliendo le testimonianze dei cittadini che chiedevano quantomeno un'ordinaria manutenzione. Infatti il comune non ha alcune intenzioni di riaprirlo, così l'assessore al decoro urbano Barbara Brunori si è presa in carico la situazione ed oggi il sottopasso si presenta così, quasi tutto pulito. Mancano pochi punti da sistemare, tra questi la ringhiera di velta tempo fa a causa di un incidente stradale, ma l'assessore assicura, presto verrà ripristinata. Siamo intervenuti perché è un sottopasso che di fatto è un'opera, è un'infrastruttura che riguarda delle opere compensative del 2004, ma non è mai stato utilizzato né dai passanti né da ciclisti, se non per bivaccare e per luoghi poco sicuri. Per questo motivo lo abbiamo chiuso ed è diventato purtroppo un ricettacolo di rifiuti in curia delle persone che ci transitavano. Siamo intervenuti oggi perché la situazione era veramente insostenibile, sono molto contenta e ringrazio ASET perché lo ha fatto veramente con cura e nel dettaglio. finiremo di fare la parte legata al sottopasso nelle prossime settimane, però ad oggi la situazione è questa e qui mi appello a tutti i cittadini, e lo dico davvero, perché stiamo lavorando per una città sempre rivolta al verde, al decoro e anche alla qualità dell'ambiente. Per cui mi rivolgo a voi perché come il Comune deve fare la sua parte, anche ognuno di voi deve essere responsabile delle proprie azioni, soprattutto perché tutto quello che noi, in ogni luogo che noi attraversiamo e ogni cosa che noi abbiamo nella città è anche di nostra proprietà ed è un bene proprio comune, non solo nostro. Quindi veramente cerchiamo di tutelare lo spazio, le cose che abitiamo, perché questo bene debba essere preservato. E torniamo a parlare della ciclabile vicina alla ferrovia Fan Urbino perché FIAB Marche ha raccolto circa 1100 firme affinché non venga interrotto l'iter per realizzarla. Non interrompere l'iter per realizzare la pista ciclopedonale a un metro e mezzo dai binari della ferrovia dismessa Fan Urbino. Lo ribadiscono i membri delle associazioni FIAB Marche e Fano Forbici, ora sostenuti da oltre 1000 firme, grazie alla petizione rivolta alla regione Marche lanciata circa due settimane fa sulla piattaforma change.org ed ora dichiarata conclusa con ottimi risultati. 1000 e quasi 100 firmatari della nostra petizione. Una petizione che è nata proprio per dare spinta alla richiesta di non interrompere l'iter della ciclovia Fan Urbino come già pensata negli anni precedenti dall'amministrazione regionale. Questo voto o firme sono trasversali nel senso che abbiamo visto all'interno oltre la presenza di vari amministratori locali, in particolare la presenza di associazioni, associazioni ambientaliste, volontariato. La petizione ha poi continuato il presidente di Forbici Fano, Gianni Collina, ha rimesso al centro della discussione il tema della mobilità sostenibile ed ha evidenziato che l'infrastruttura ciclopedonale, essendo un percorso pieno di attrazioni ambientali e culturali, può rappresentare anche una grande opportunità di crescita economica per tutta la Valle del Metauro, oltre ad evitare un ulteriore consumo di suolo, visto che la pista ciclopedonale può essere posizionata a ridosso del percorso ferrato e non sopra o al posto di quest'ultimo. La ciclovia lungo la ferrovia Fano Urbino non la distrugge affatto, anzi è una garanzia per il futuro. Questa ciclovia che congiunge la costa all'entroterra, tra l'altro porterebbe cicloturisti nel circuito appena presentato dell'Appennino Alto Marchigiano. Nove comuni si sono impegnati a investire in questo settore per cui sarebbero facilitati nel loro interno se arrivassero dalla costa questi turisti in bicicletta. Tra l'altro anche elettrica, quindi l'altro concetto è questo. Molti pensano che sia faticoso, difficile, impossibile percorrere lunghe distanze. A parte che non è vero neanche con la bici normale, ma quella pedata assistita sta alleviando il disagio, la fatica e sta ampliando gli orizzonti. Ci preme che venga attuata questa ciclovia a fianco dell'ex ferrovia perché ci servirebbe moltissimo, penso al Guadagli, la sicurezza dei ciclisti e anche dei pedoni, potrebbe essere non solo un fatto puramente ludico, ma anche chi è che si sposta per andare al lavoro, per altri motivi. L'utilizzo di questo corridoio è molteplice, non è legato solo a un fatto puramente sportivo o di appassionati della bicicletta. Vi ricordo che domani pomeriggio alle ore 15 Fano TV trasmetterà in diretta dal Duomo di Senigallia il funerale del Vescovo in merito di Fano, Monsignor Mario Cecchini. L'informazione invece torna domani mattina in diretta alle ore 7 con la nostra rassegna stampa. Buona serata a tutti voi e segnatevi il numero di telefono 338 49 68 250. Arrivederci a domani. Am scapati a domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti.